Se hai interessato, dico a me, al mio nome, al mio cognome. Hai un pro nipote, chiamalo, scaldalo, nei giorni in cui senti la mia mancanza, chiamami, telefonami, mandami un sms, come i farfalle che volano, giocano tra di loro. Hanno tutte la loro carta d'identità. Trovo, cerchiamo nei nostri modi, certe cose come carta d'identità. Per riconoscerci, dattelo, ma fai con cautela, bronzi, nessuno li vuole sentire. Nessuno, credimi, sarà come noi. Davvero, loro vivono in un mondo tutto loro. Il nostro più sentimentale, non ci sono confronti tra noi e loro. Fanno pettegolizzi solamente, noi sappiamo vivere la nostra vita. Non è così che loro vincono, neanche sanno dove stiamo. Cercano di imitarci, ma non hanno successo. Carta d'identità, personale mia, invece la nostra persona non si tocca. Giungerei alle belle occasioni, prima o poi arrivano, tanto loro hanno solo caparbietà. Provano a chiamarci, non ci toccano la nostra carta d'identità. Vedremo cosa si farà, cosa accadrà in futuro. Ci mettiamo noi tanti puntini su. Noi su questo potremo di più, la nostra vita, vita, carta d'identità. Carta d'identità, personale mia, invece la nostra persona non si tocca. Vita, carta d'identità. Grazie. Grazie.